Per la situazione societaria è veramente dura fare un recap in un solo video quindi cercheremo magari di parlarne in live su Twitch Quindi rimanete aggiornati, corner-sampdoriano su Instagram Oggi siamo qui, come vedete dal titolo, per cercare di fare un attimino il recap di un calciomercato che non è ancora iniziato Però abbiamo già visto i primi acquisti con l'Amers, con Wintik e dall'altra parte le cessioni Con Ferrari e Caputo che vanno rispettivamente a Cremonese ed Empoli Andiamo a vedere insieme quello che è successo in questi giorni Un saluto a tutti gli amici del corner-sampdoriano, buon anno, dovrebbe essere il primo video del 2023 Quindi buon anno sperando che in termini calcistici ci possa regalare un pochino più di gioia rispetto al 2022 Che insomma ci ha lasciato un pochino con la mare in bocca alla fine ma verso aprile-maggio ci ha fatto un po' divertire Detto questo andiamo a vedere appunto quello che sta succedendo Partiamo con le cessioni Quella di Caputo che si trasferisce all'Empoli con uno scambio, quindi viene da noi l'Amers Per me è un'operazione che ci sta L'Amers è un attaccante che andremo a vedere tra poco È un'ottima alternativa a Caputo Ciccio è un giocatore che io ho sempre ammirato calcisticamente, ve lo sapete, l'ho detto varie volte È un giocatore che in campo secondo me alla Samp poteva e doveva fare molto di più Mi è dispiaciuto perché a Reggio Emilia, a Sassuolo è stato un giocatore che a me è piaciuto veramente tantissimo come stile Diciamo che si è visto probabilmente un Ciccio Caputo lasciato spesso da solo Però le poche volte che gli arrivavano ai palloni, davvero Ciccio Male nel posizionamento, nella copertura palla Diciamo che ci si aspettava molto di più da un Caputo che ha raccolto meno di 20 gols Se non ricordo male, in tutto con la maglia blu cerchiata Quindi sicuramente ci si poteva aspettare molto molto di più da parte di Caputo E arriva Sam Lammers Sam Lammers è nato il 30 aprile Quindi una data che a noi piace del 97 Quindi si avvicina ai 26 anni È più giovane quindi di Caputo È più dinamico, è un giocatore che secondo me può dare suo contributo Ha giocato in Olanda prima di arrivare in Italia Prima di Empoli è stato all'Atalanta dove non ha brillato particolarmente Neanche a Empoli in 14 presenze solamente un gol Però molto molto meglio di Caputo Almeno questo è il mio pensiero ad oggi 1 gennaio del 2023 Quindi speriamo che io abbia ragione Perché se no facevamo prima a tenerci ciccio Però ripeto Piuttosto che tenermi un Caputo così Che cammina così in campo Che non riesce a dare nessun contributo alla squadra Provo e mi prendo Sam Lammers Per me ci sta Sono dei giocatori abbastanza diversi Uno un po' più statico, uno più più dinamico A me questa operazione sinceramente va bene Andiamo a vedere l'operazione invece che porta Ferrari alla Cremonese Ah, piccola premessa Non si stanno ancora nei dettagli Bonus, operazioni Si sa solamente che i due acquisti da Mersenwintic ci saranno solamente fino al 30 di giugno Quindi è un contratto di 6 mesi Detto questo, Ferrari Ferrari È un giocatore che a me è sempre piaciuto Anche quando tutti lo criticavano Secondo me qualcosina lo faceva vedere in campo È un giocatore che secondo me Ha fatto il suo Però anche lui ultimamente Non lo so Sarà l'ambiente Sarà la situazione societaria Sarà il cambio di allenatore Non lo so Però ultimamente lo vedevo Anche lui un po' in discesa Quindi Secondo me è un'operazione Che ci può stare Non mi è piaciuto però Un fatto L'hai venduta alla Cremonese Che è una squadra Che ti ha messo in difficoltà a Cremona Perché io c'era una partita L'ho vista Ho sofferto come un cane È l'unica vittoria che hai fatto Sì ma In campo Sappiamo bene che Diciamo che La partita era molto molto più verso Cremona Piuttosto che verso Genova Benedetto Colli Che è riuscito a fare quel gol Però Portare un giocatore come Ferrari Che è comunque Uno dei tuoi titolari Possiamo dirlo Lo dai A una diretta concorrente Per la salvezza No Questo sinceramente Non mi è piaciuto Quindi L'operazione Ferrari va bene Se non lo vende A una diretta concorrente Se l'avessi data Cosa ne so Alla Lazio Quello che vuoi Va benissimo Ma Alla Cremonese No Quindi È un'operazione Da 5-5 a me Poi Andremo a dare bene i voti Alla fine Alla fine del mercato E ci divertiremo E arriva Nguintic Nguintic è un giocatore che Non lo so È un punto interrogativo Perché è arrivato in Italia nel 2017 È un giocatore Ora non so bene l'età Ma penso oltre i 30 Anche lui Quindi Tanta esperienza Oltre 100 presenze in Serie A In Italia nel 2017 Ha giocato all'Underlecht Come detto Quindi È un giocatore che ne sa Come esperienza Forse si avvicina poi Uscida Tanto per fare un po' Un paragone Con un blu cerchiato Che avevamo Quindi Secondo me va benissimo Però Ultimamente anche lui L'Udinese Ho visto un Nguintic Che non stava ridendo al massimo Quindi Vedremo Vedremo Anche lui ci dovrà dare Delle risposte Comunque L'Udinese È una squadra che ha partito Molto bene Quest'anno Speriamo che almeno Fisicamente Possa tenere Comunque È uno che lotta Quindi ben venga Anche lui Ecco Posso dire che Secondo me ci siamo rinforzati Però Non voglio sbilanciarmi più di tanto Perché siamo al primo di gennaio Tra tre giorni C'è la trasferta di Reggio Che è molto 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 Delicata Poi abbiamo il Napoli in casa Diciamo che Sarà sicuramente Una bella battaglia E quindi Nel complesso Diciamo che secondo me Blammer Nuntic Per Caputo E Ferrari Sono due operazioni Che ci stanno Peccato appunto Aver venduto Ferrari A una direttata concorrente Come la Cremonese Per quanto riguarda Reggio Emilia Piccolo Apro e chiudo parentesi Piccolo angolo Per quanto riguarda La trasferta Collei Non ci sarà O almeno Ha riscontrato Un'influenza Oggi che è domenica Quindi La partita Difficilmente La giocherà Quindi potremo vedere Un Wintic Vedremo sicuramente L'Amers Se non da primo minuto Lo vedremo comunque In campo Per quanto riguarda Winks E De Luca Sono rientrati in campo Ed è una notizia Molto molto buona Sono dei giocatori Che sicuramente Daranno una grande mano E dobbiamo aspettare Fabio Questo brutto infortunio Secondo me Lo terrà Almeno fino ad aprile Purtroppo Una botta Che non ci voleva Se comunque È così Il primo video Del 2023 Se non è il primo Comunque È uno dei primi Quindi Lasciate un pollicione Su se vi è piaciuto Fateci sapere La vostra Nei commenti E Mi raccomando Corner Trattino basso Sampdoriano Su Instagram Per rimanere Aggiornati Anche Per quanto riguarda Leggio Emilia Perché ci sarà qualche vita Da Mattia è tutto Da Corner è tutto Sempre a ForzaSamp